A vicendamento al vertice della compagnia Carabinieri di Sernia il capitano Francesco Iodice ha preso il posto dell'uscente tenente colonnello Riccardo Turchetti. Turchetti destinato al comando provinciale di Frosinone traccia un bilancio dei quattro anni trascorsi nel capoluogo Pentro. Indubbiamente sono stati quattro anni veramente intensi sotto il profilo lavorativo e sotto il profilo umano e sono certo che questa bellissima terra la porterò nel cuore. Necessariamente in queste giornate così forti anche sotto il profilo emotivo non si può che fare dei ringraziamenti che la mente corre subito ringraziamento verso i miei collaboratori ringrazio la scala gerarchica che ci ha consentito di lavorare sempre con la massima serenità. Un ringraziamento va sicuramente all'autorità giudiziaria ed amministrativa con le quali si è collaborato benissimo. Un ringraziamento a sua eccellenza il vescovo anche sempre molto molto vicino all'arma. Un ringraziamento alle altre forze di polizia. Un ringraziamento poi alle autorità locali per il sostegno e per diciamo così lo scambio istituzionale che c'è sempre stato. indubbiamente poi per me i migliori auguri al capitano Iodice che assumerà il comando di questa compagnia. Il neocomandante Iodice che proviene dalla compagnia di Molfetta assume con soddisfazione il nuovo incarico e descrive quelle che saranno le linee di indirizzo del suo mandato. Sono ovviamente onorato di assumere il comando della compagnia carabinieri di Sernia una terra bellissima, straordinaria. Come proposito ovviamente so che il colonnello Turchetti ha fatto un ottimo lavoro, cercherò di proseguire sulle sue orme. Ovviamente come primo obiettivo vicinanza al cittadino e soprattutto ascolto. Saranno mesi in cui ovviamente conoscerò la terra, le esigenze di tutta la cittadinanza e quindi cercheremo di dare massimo impulso a quelle che sono le istanze della cittadinanza e delle istituzioni locali con cui sicuramente sono certo avremo un'ottima collaborazione. Il passaggio delle consegne è avvenuto alla presenza del comandante provinciale dei carabinieri di Sernia, colonnello Vincenzo Maresca, che ha salutato con gratitudine l'uscente e con i migliori auguri il nuovo comandante. Presenti alla cerimonia anche i due nuovi giovani comandanti delle stazioni di Colli al Volturno, Pietro Lepore, e di Pietra Abbondante, Matteo Pagano. Abbiamo celebrato il buon lavoro che ha fatto il colonnello Turchetti al comando della compagnia di Sernia. Sicuramente il capitano Iodice che gli succede saprà fare altrettanto, però è l'occasione giusta per presentare alla cittadinanza anche i nuovi comandanti di stazione che ci sono arrivati, sono giovani, sono motivati e si inseriscono in un territorio che non dà particolari problematiche di ordine e sicurezza pubblica e loro hanno il compito di mantenerlo in questo stato. Sono due comuni, due stazioni per noi importanti che hanno competenze anche su altri comuni come Colli a Volturno e Pietro Abbondante.